9 violazioni alle norme anti-covid, 4.000 euro di multa, laboratorio chiuso per 5 giorni, oltre a provvedimenti per un lavoratore in nero scoperto all'interno del locale. Siamo in via Volta, Romano Dezzelino, nei guai un 54enne cinese, titolare di un'attività che lavora per una prestigiosa ditta di abbigliamento per bambini dell'Asolano. Nel corso di controlli congiunti tra Polizieri Stato, Ispettorato al Lavoro di Vicenza e Spisal di Bassano, è stata riscontrata la sfilza di irregolarità a cominciare dal mancato utilizzo della mascherina da parte dei 10 dipendenti e dal non rispetto delle distanze di sicurezza, oltre a una situazione igienica pessima e a totale assenza di aerazione dei locali. Durante il sopralluogo un individuo è risultato non dipendente dell'attività per cui si procederà di conseguenza.